Conosciamo tutti internet, ci siamo letteralmente dentro in questo momento, e sebbene ora sia utile e per la maggior parte sicuro, non è sempre stato così. Ai suoi esordi, il web era un posto quasi senza leggi, in cui chiunque, in qualsiasi momento, poteva fregare o fare del male al prossimo. E spesso queste persone restavano impunite, perché era anche più semplice cancellare le tracce. I crimini commessi dalla persona di cui voglio parlarvi oggi, però, furono talmente terribili da lasciare una traccia indelebile non solo sul web, ma anche e soprattutto nella vita reale. Ragazzi, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto, perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi voglio parlarvi di quello che in molti definiscono come il primo caso di omicidio avvenuto tramite internet. Si tratta di una vicenda davvero intricata, e sicuramente peggiore di quanto immaginate. Prima di iniziare però vi ricordo velocemente che su Pampling trovate le magliette che indosso nei video, come questa, e tante altre cose strabelle, come zaini, felpe, tazze, un sacco di roba. Andate a fare un giro, se volete, lascio il link nella descrizione, e col codice Andrew, se lo inserite al checkout, vi daranno anche delle calze che sceglierete voi, totalmente in omaggio. Detto questo, cominciamo immediatamente, subito. È l'11 febbraio del 2000, ci troviamo a Odessa, nel Missouri. Quel giorno una donna di nome Lynn fa un'orribile scoperta riguardo il cugino di suo marito, un uomo di nome Jerry Cassaday. Quest'uomo, Jerry, viveva nel seminterrato della casa di suo cugino, ed è proprio lì che la donna fa questa scoperta. Lynn e la sua famiglia a quel punto non vedevano Jerry da qualche giorno, il che potrà sembrarvi strano, ma in realtà era abbastanza usuale che non si facesse vedere e sentire di frequente. Quando aveva tanto lavoro da fare, o semplicemente voleva farsi un po' gli affari suoi, riflettere, Jerry era solito chiudersi nel seminterrato, che era un vero e proprio appartamento, e non uscire per giorni. Qualcuno dei suoi conoscenti pensava che potesse soffrire di depressione anche per via di questi comportamenti, ma soprattutto perché negli anni precedenti aveva letteralmente passato un inferno. Però Lynn e la sua famiglia sapevano che ogni tanto Jerry aveva bisogno di stare solo, per cui non andavano a trovarlo e a rompergli le scatole. Ma quella volta in particolare, col passare dei giorni, Lynn ha cominciato a sentire uno strano odore che probabilmente proveniva da lì sotto. Quindi, curiosa e anche un po' preoccupata, è finalmente andata a controllare. Ed è a quel punto che ha trovato Jerry seduto nella sua poltrona, rivolto verso la finestra. Dalla posizione in cui si trova però in quel momento, la donna non riesce a vedergli la faccia, quindi prova a chiamarlo, ma lui non risponde. Prova quindi ad avvicinarsi e si rende conto che più si avvicina, più quello strano odore diventa forte e pungente. Però continua ad avvicinarsi, fino a quando non arriva abbastanza vicino da rendersi conto che Jerry era morto. Aveva una bibbia sulle gambe e una ferita d'arma da fuoco autoinflitta. Si era tolto la vita. Questa terribile scoperta lascia tutti sotto shock. Parenti e amici di Jerry non ci possono credere. Cosa lo ha spinto ad arrivare a tanto? Perché? C'era sicuramente qualcosa sotto, qualcosa che era sfuggito a tutti. Tuttavia passano i giorni e arriva il triste momento in cui i familiari devono ripulire le sue cose, mettere a posto il semi interrato, insomma, fare ordine. Ed è lì che fanno un'altra scoperta. Sotto il letto di Jerry, suo fratello Mike trova una valigetta nera e, aprendola, scopre qualcosa che avrebbe dato il via ad un'intricata indagine. Un'indagine per omicidio. Ma, un attimo. Chi è questo Jerry? Che cavolo sta succedendo? Parliamo un attimo di lui. Jerry nasce a Kansas City, nel Missouri, nel 1960. È il più piccolo di quattro fratelli e trascorre un'infanzia piuttosto normale. Tutte le persone che lo conoscevano parlano di lui come un bambino e un ragazzo adorabile. Sua madre racconta di quanto fosse competitivo con i suoi fratelli, dice che gli piaceva tantissimo andare a pescare in famiglia, passare del tempo insieme e, in generale, fare cose tutti insieme. Qualcosa all'aria aperta. Come vi dicevo, un'infanzia e un'adolescenza del tutto normali e serene. Col passare del tempo, Jerry decide di diventare agente di polizia, lavoro che farà per un bel po' e che gli porterà grosse soddisfazioni a livello di carriera. In quel periodo, Jerry ama lavorare per le forze dell'ordine, infatti riesce molto in fretta a passare di livello, aumentare di grado e viene addirittura promosso a tenente per poi successivamente diventare un detective della Omicidi. È tutto perfetto per lui, anche la sua vita personale. L'uomo infatti si sposa con una donna di nome Barbara che lavorava nello stesso dipartimento di polizia in cui lavorava lui. I due si ritrovano ad un certo punto con ben tre figli. Due erano figli di Barbara che aveva avuto da un precedente matrimonio, mentre uno l'hanno avuto insieme. Come avete visto, nell'insieme la sua vita stava andando benone. Jerry era il classico uomo americano di classe media, ma le cose per lui cominciano a cambiare intorno al 1998. Quell'anno, Jerry ha 37 anni e lavora ancora nella polizia, ma ad un certo punto comincia a notare qualcosa di strano, qualcosa di molto sospetto nel suo dipartimento. Praticamente scopre e ha le prove che alcuni ufficiari di polizia, anche di alto livello, avevano falsificato alcuni documenti riguardo un'investigazione su un omicidio, cosa gravissima, come potete immaginare. Quindi l'uomo decide di parlare, va dai suoi superiori e dice loro tutto quello che aveva scoperto. Ecco, un comportamento decisamente nobile. Jerry ha fatto la cosa giusta, per la giustizia. E infatti grazie alle sue scoperte, viene aperta un'altra indagine molto più grossa e gli agenti che avevano falsificato questi documenti vengono licenziati. Tutto a posto, no? Non proprio. Perché da quel momento, tutti i suoi colleghi si sono come schierati contro di lui, che aveva semplicemente fatto la cosa giusta. È assurdo. Jerry infatti viene declassato dal suo ruolo e infine, usando scuse come piccoli ritardi all'arrivo in centrale, finiscono per licenziarlo. Questo fa riflettere molto su quanto almeno quel sistema sia veramente malato e marcio. Ma vabbè, se cominciamo a parlare di questo non la finiamo più. Tornando a noi, Jerry si ritrova senza un lavoro ed è devastato. Anche perché non era un lavoro qualsiasi. Lui lo amava. Praticamente la sua persona era diventato essere un detective dallo omicidi. Quindi si sentiva parte di qualcosa di grande, aiutava la comunità e faceva in modo che rimanesse al sicuro. Ora però, non lo può più fare. E questo lo distrugge. Immaginate cosa vuol dire perdere il lavoro della propria vita per aver fatto la cosa giusta, una cosa del genere. Non deve essere per niente facile da affrontare. Ma nonostante tutto, Jerry riesce quasi subito a trovare un lavoro come guardia di sicurezza in un casino del posto. E da questo momento, diciamo che si lascia un po' andare. Comincia ad affogare i suoi dispiaceri nell'alcol e nel gioco d'azzardo. E ovviamente il suo lavoro non lo aiuta a stare lontano da questi vizi. Dopo un po' di tempo, passato in questo modo, decide di voler cambiare aria. Così chiede ai suoi capi e ai suoi superiori di essere trasferito in un altro casino a Reno, nel Nevada. La sua richiesta viene accettata e l'uomo si trasferisce lì con tutta la sua famiglia. In questo nuovo casino comincia a fare il croupier, quindi comincia anche a fare un bel po' di soldi in teoria. Sicuramente di più rispetto al suo precedente lavoro. Tuttavia, Jerry non stava affatto bene. A Reno, infatti, il suo problema con l'alcol non fa altro che peggiorare. Comincia a bere sempre di più, a fare sempre più festa. Uno stile di vita che non si sposa molto bene con la famiglia. Per questo, ad un certo punto, sua moglie decide di andarsene con i figli, di fatto lasciandolo lì da solo. Questa non è altro che l'ennesima batosta per Jerry, che sembra proprio non riuscire più a far andare la sua vita per il verso giusto. Da quel momento, infatti, i suoi problemi peggiorano e finisce addirittura per avere qualche problemino con la legge. Per via di tutto ciò, la sua famiglia, preoccupata, gli consiglia di tornare in Missouri e gli dice che sarebbe potuto andare a vivere da suo cugino, o meglio, nel semi interrato di suo cugino. Ma almeno sarebbe stato con loro, sarebbe stato meglio. Come immaginerete, Jerry accetta questa proposta e si trasferisce nel semi interrato di suo cugino in Missouri, luogo in cui l'11 febbraio del 2000 verrà trovato senza vita. Torniamo quindi a quella strana valigetta nera. Suo fratello Mike, se ricordate, l'aveva trovata sotto il suo letto mentre stava ripulendo il semi interrato dai suoi effetti personali. Sopra questa valigetta c'erano tre lettere attaccate con lo scotch ed erano indirizzate ai familiari. Probabilmente si trattava di lettere d'addio. Una di queste era indirizzata proprio a Mike, suo fratello, e aveva una grossa scritta in grassetto che diceva non aprire da solo con il non sottolineato diverse volte. Penso praticamente chiunque avrebbe subito aperto quella lettera ma Mike, conoscendo bene suo fratello e sapendo che era stato un detective della omicidi, decide di seguire le regole e non aprirla. Chiama quindi un avvocato in modo da stare più tranquillo e finalmente aprono tutto. Le tre lettere erano indirizzate a tre persone diverse e al loro interno c'erano le sue confessioni. Confessioni in cui spiega perché si è tolto la vita e confessa qualcosa di terribile che aveva fatto tre mesi prima. Nelle lettere scrive di aver commesso un omicidio. Più precisamente spiega di aver ucciso un uomo del Michigan di nome Bruce Miller. Immaginate trovare una confessione del genere. I familiari non ci possono credere. Jerry non avrebbe mai fatto del male a nessuno. Semplicemente non aveva senso. Quindi spostiamoci un attimo a Flint nel Michigan. Lì viveva Bruce Miller, l'uomo che apparentemente era stato ucciso da Jerry. Bruce lavorava per la famosa General Motors, un'azienda produttrice di auto e lavorava lì da praticamente tutta la vita. Era una di quelle persone a cui piace tantissimo mettere mano sulle auto, smontarle, migliorarle, aggiustarle, cose così. Infatti ad un certo punto si è licenziato dal suo lavoro e ha aperto il suo business, una sorta di sfascia carrozze di cui andava veramente fierissimo. La sera dell'8 novembre 1999 stava appunto lavorando in questa sua attività quando ad un certo punto riceve una chiamata. È sua moglie Shari che gli chiede qualcosa del tipo Ehi, puoi portare della pizza a casa per cena? Lui risponde di sì e chiudono la telefonata. Poco dopo qualcuno spunta fuori dal nulla e spara Bruce uccidendolo. Questa persona non lascia nessuna traccia, nessuna impronta digitale, nessun capello, nessun segno del suo passaggio. Niente. Solo tre mesi dopo, a più di mille chilometri di distanza, le dichiarazioni di addio di Jerry rivelano che l'omicidio era stato architettato e che Jerry aveva viaggiato fino a Flint col solo ed unico obiettivo di uccidere Bruce. Tutto questo non ha alcun senso né per noi che stiamo scoprendo questa storia per la prima volta né per i familiari di Jerry che non avevano mai sentito parlare di Bruce. Come si erano conosciuti? Cosa centravano l'uno con l'altro? Per rispondere a queste domande dobbiamo parlare anche della moglie di Bruce, Shari Kitley Miller. Shari la sera dell'omicidio era a casa e stava aspettando che suo marito tornasse da lavoro con della pizza. Ma al posto di Bruce quella sera arrivano gli agenti che le comunicano la triste notizia. Qualcuno aveva ucciso suo marito. Si dice che la donna a questo punto abbia cominciato a piangere in modo isterico e sia caduta a terra disperata. Chi avrebbe mai potuto fare una cosa del genere a suo marito? Allora parliamo come si deve anche di Shari. Shari nasce nel 1971 a Flint nel Michigan e cresce in una tipica famiglia americana apparentemente normale. Dall'esterno tutto sembrava perfetto e felice ma in realtà non era per niente così. Sua madre era spesso assente ed era una di quelle persone che non riescono a stare sole quindi usciva di continuo con vari uomini cioè appena una storia finiva ne cominciava subito un'altra e questo via vai di persone sempre diverse sicuramente non è l'ideale quando si cresce un figlio. Questa situazione infatti porterà qualche forma di abuso non specificato nei confronti di Shari e ricordo che gli abusi possono essere sia fisici che psicologici quindi magari si parla di abusi verbali non lo sappiamo. In sostanza comunque l'infanzia di Shari sarebbe potuta andare molto meglio. Anche per questo per via della sua infanzia con il passare del tempo Shari comincia a cercare l'amore nei posti sbagliati alle persone sbagliate per cui all'età di 25 anni alla mia età si ritrova a dover affrontare un divorzio e a doversi prendere cura di ben tre figli. Tutto ciò richiede dei soldi e non pochi ma la giovane donna fa semplicemente qualche lavoretto part time per esempio lavorando in una casa di cura o vendendo prodotti per un'azienda di nome Mary Kay che sarebbe una sorta di Avon degli Stati Uniti per farvi capire. Insomma non se la passa molto bene alla fine però riesce a trovare un lavoro come contabile per la piccola azienda di Bruce Miller quando si incontrano per la prima volta Shari ha 27 anni mentre Bruce 47 ma nonostante la grandissima differenza d'età i due si trovano bene diventano subito amici ma la donna comincia a provare qualcosa per lui parla a tutti i suoi amici di quanto Bruce sia fantastico e totalmente diverso da tutti gli uomini che aveva conosciuto fino a quel momento aveva la testa sulle spalle era un uomo a posto aveva la sua attività nessun problema economico insomma Shari comincia a provarci con lui e ha subito successo dopo circa uno o due mesi dal loro primo incontro i due vanno a convivere o meglio la donna si trasferisce a casa di Bruce portando anche i suoi tre figli stando alle dichiarazioni della stessa Shari Bruce comincia subito a prendersi cura dei bambini e fa di tutto per essere una figura paterna perfetta per loro le cose vanno bene e nell'aprile del 1999 i due vanno a Las Vegas e si sposano che cliché lo so Shari comunque sarebbe stata la quarta ed ultima moglie di Bruce mentre Bruce il terzo marito di Shari in teoria quindi avevano entrambi già passato varie relazioni e avevano capito cosa volevano e non volevano da un partner tutto sarebbe dovuto andare per il meglio Bruce si affeziona molto velocemente ai figli di Shari supporta la donna in qualsiasi modo e in generale crede proprio di amarla e di amare la sua vita con lei finalmente si trova bene con qualcuno ed è pronto a dare tutto se stesso per far sì che la cosa funzioni una delle cose che mette subito in chiaro è il suo supporto incondizionato nei confronti di Shari supporto sia emotivo che economico infatti per aiutare la donna a vendere più prodotti del suo lavoro per Mary Kay Bruce decide di regalarle un computer in questo modo avrebbe potuto raggiungere molti più clienti potenziali guadagnare di più e raggiungere i suoi obiettivi un gesto davvero carino ma quel computer purtroppo non solo non aiuterà Shari a vendere i prodotti ma sarà anche il mezzo che scatenerà una gigantesca rete di bugie che si riveleranno fatali Shari comincia presto ad utilizzare un sito chiamato America Online molto conosciuto in quegli anni come AOL su AOL si poteva accedere a diversi tipi di chatroom ognuna con un argomento specifico un po' come Abbo ma con le chat oddio ricordate Abbo che trauma comunque gli argomenti di queste chat erano tantissimi discussioni sui gatti sulla casa sulle ragazze sui ragazzi ma anche su argomenti diciamo un po' più per adulti in questo tipo di chat in particolare c'era sempre qualcuno pronto a provarci spudoratamente con chiunque e ragazzi su internet nel 1999 davvero non c'erano filtri le chat diventavano spesso e presto qualcosa di molto intimo scambi di foto hot chiamate mail piccanti cose così e la nostra Shari in quel periodo appena sposata letteralmente comincia a partecipare a queste chat e comincia a piacerle anziché pensare a trovare i clienti la donna si ritrova a passare ore ed ore davanti al computer a flirtare con sconosciuti pensateci è una cosa nuovissima per migliaia di persone che per la prima volta possono nascondersi dietro queste chat essere chiunque volessero essere crearsi una nuova identità online e Shari fa proprio questo anzi crea più di un'identità online ma ognuna di queste utilizza un username definito sexy in sostanza la donna comincia a scriversi cose hot con sconosciuti online per tutto il tempo tanto che per lei diventa quasi un'ossessione le piace ricevere quelle attenzioni le piace provocare le persone con cui parla e vederle cadere ai suoi piedi e suo marito intanto Bruce non aveva la minima idea di tutto ciò e non poteva neanche scoprirlo perché essendo molto più grande di lei non sapeva minimamente come funzionasse un computer figuratevi internet per lui sua moglie stava semplicemente lavorando sodo per vendere i suoi prodotti e per aiutarlo con la sua attività non poteva capire non poteva sospettare non ne aveva proprio gli strumenti davvero triste per lei quindi è molto semplice tenerlo all'oscuro di tutto e infatti presa dall'emozione di questa nuova esperienza online decide di spingersi oltre inizia a mandare delle foto intime ad alcuni di questi sconosciuti quelli con cui parlava più spesso ma non si ferma alle foto in più di un'occasione pare si sia registrata con un camcorder mentre faceva le sue cose a se stessa e abbia poi mandato queste videoregistrazioni a diverse persone con cui si iscriveva in alcune dichiarazioni future Shari rivelerà che avere queste interazioni su internet era liberatorio per lei ma allo stesso tempo le aveva creato una sorta di dipendenza più usava le chat più ne aveva bisogno l'attenzione che stava ricevendo dalle persone era tantissima ma mai abbastanza più ne riceveva più ne voleva sempre di più ed è in questo periodo usando Owl che incontra virtualmente Jerry Cassaday esatto Shari conosce Jerry in queste chat piccanti e subito i due cominciano a messaggiare tantissimo parlano di tutto qualsiasi cosa costantemente sentono subito una sorta di connessione reciproca si piacciono amano chattare l'uno con l'altro e sembrano capirsi quindi in pochissimo tempo si ritrovano a parlare non solo di cose piccanti ma anche di loro stessi delle loro vite e cominciano ad aprirsi Jerry le racconta di tutti i problemi che stava avendo perché in quel periodo nel periodo in cui si sono conosciuti l'uomo ancora era areno quindi le racconta della perdita del lavoro del divorzio del problema con l'alcol proprio tutto e lei prova a consolarlo a dirgli che andrà tutto bene e cerca di incoraggiarlo un'interazione che va molto oltre il semplice flirt ma oltre a tutte queste cose belle i due si scambiano anche contenuti espliciti e ricevere questi contenuti da una bella ragazza fa sentire Jerry apprezzato lo fa sentire sicuro di sé voluto sensazioni che prima di questo incontro non provava affatto tuttavia non è tutto perfetto a parte che vabbè Shari stava tradendo Bruce e già solo per questo è ovvio che non fosse tutto perfetto ma a parte questo grande dettaglio la donna diciamo che comincia un po' mentire a Jerry riguardo la sua situazione su internet quasi tutti mentono specialmente in quegli anni ma Shari ci va proprio giù pesante racconta a Jerry di essere molto ricca gli dice di possedere varie case di cura a Flint e racconta che presto avrebbe dovuto affrontare un processo che le sarebbe costato un bel po' di soldi non lo so perché ovviamente nulla di tutto ciò era vero ma si offre anche di aiutare economicamente Jerry per farlo uscire da quella brutta situazione a Reno quindi lui semplicemente è felice pensa di aver trovato la salvezza in questa donna e si prende tantissimo per lei Shari sembra avere tutto ciò di cui Jerry in quel momento ha bisogno i due continuano a sentirsi e ogni giorno che passa il loro legame diventa sempre più forte si scrivono cose dolci cose sexy cose rassicuranti arrivano addirittura a raccontarsi a vicenda delle specie di fantasie sulla loro storia d'amore aggiungendoci anche del piccante qua e là insomma ai due piace molto giocare con la fantasia ma ad un certo punto solo la fantasia non basta più Shari e Jerry si mettono d'accordo per vedersi nella vita reale e tenete in considerazione che quando organizzano questa cosa Shari era sposata con Bruce da solo una settimana la donna dice a Bruce che sarebbe dovuta andare a Reno per una specie di riunione per la sua attività per Mary Kay e lui ovviamente le crede non ha motivo per dubitare di lei quindi lei lascia i bambini a casa con Bruce e parte per Reno per il weekend si incontra con Jerry direttamente nel casino in cui lavorava e come avevano programmato per messaggio i due fanno un gioco di ruolo per far aumentare l'eccitazione fanno finta di non conoscersi fingono di incontrarsi per caso flirtare cose così come si vede nei film fatto sta che ad un certo punto Jerry comincia a girare per il casino e presentare Shari a tutti i suoi colleghi e amici era proprio fiero di lei ed era fiero di sé per aver trovato questa donna perfetta quel giorno fu subito chiaro a tutti Jerry era innamorato follemente di lei dopo tutte queste presentazioni con amici e colleghi i due si ritirano nelle loro stanze passano la notte in hotel a fare le loro cose e una volta trascorso il weekend Shari fa tranquillamente ritorno a casa a Flint come se niente fosse dopo il loro incontro segreto che per Jerry non era stato tanto segreto i due continuano la loro relazione tramite email lei continua ad inviargli le solite foto hot e lui continua ad apprezzare tantissimo anzi forse anche troppo Jerry infatti arriva addirittura a chiamare sua madre un paio di volte per parlarle di Shari di quanto fosse perfetta di quanto fosse preso per lei provava proprio delle emozioni fortissime i due comunque cambiano addirittura username su AOL lei mette tipo Jerry's Fool che in questo caso significa tipo la stupidina di Jerry la tipa di Jerry una roba così ma in modo amorevole cioè non ve lo so tradurre benissimo e lui ovviamente mette invece come username Shari's Fool lo stupidino di Shari una roba così comunque il punto non è questo il punto è che anche se la donna in futuro dichiarerà di non essersi mai presa veramente per Jerry è chiaro che in qualche modo invece fosse presa o almeno le piaceva sicuramente tantissimo stare con lui le sue attenzioni le piacevano quindi per via di tutto ciò continuano a parlare e sentirsi costantemente e decidono anche di vedersi più spesso in ognuna di queste occasioni Shari avrebbe detto a Bruce che sarebbe andata via per le conferenze e riunioni del suo lavoro per Mary Kay e lui ovviamente non avrebbe mai sospettato di nulla a questo punto Bruce e Shari erano sposati da pochi mesi ma lei comunque grazie anche ai soldi del suo nuovo marito vede tutta questa situazione come un'opportunità ora può scappare dalla sua vecchia vita può fare questi viaggi scappare dai bambini scappare dalla quotidianità e lo può fare solo perché sta con Bruce inoltre fare tutto questo la eccita le provoca adrenalina la fa sentire viva una situazione parecchio delicata soprattutto per i suoi figli e per Bruce ignari di tutto in quel momento tuttavia a qualche mese dall'inizio di questa relazione online tra Shari e Jerry lei gli comunica tramite mail di essere incinta del suo bambino del bambino di Jerry e lui la prende straordinariamente bene gli mancava la vita di famiglia gli mancavano i suoi figli quindi vede questa come un'opportunità per ricominciare per avere una nuova famiglia con la donna perfetta è proprio felice di scoprire che presto avrebbe avuto un figlio con Shari lei intanto procede mandandogli delle foto dei test di gravidanza delle ecografie cose così gli manda persino una foto del suo pancione leggermente gonfio perché non era da tanto che avevano concepito insomma e ancora ad ogni foto e ad ogni mail Jerry è sempre più entusiasta e felice però dopo qualche giorno o settimana non è chiaro la donna gli rivela una cosa terribile per messaggio dice a Jerry che Bruce che gli aveva presentato come il suo ex con cui ancora viveva per qualche motivo aveva scoperto della loro relazione online si era quindi infuriato e dopo una bruttissima litigata era diventato violento e l'aveva picchiata con una forza indescrivibile e a seguito di questo pestaggio Shari aveva perso il bambino dopo questi messaggi la donna procede ad inviare delle foto della pancia e della schiena a Jerry foto in cui si vedono chiaramente molti lividi e delle ferite davvero terribile peccato però che era tutta una bugia Shari aveva usato il suo make up di Mary Kay per far sembrare che avesse quei lividi e quelle ferite Bruce non era venuto a sapere proprio nulla e lei non era mai stata davvero incinta di Jerry questo però Jerry non lo sa e ovviamente crede a lei perché non avrebbe dovuto dopo aver ricevuto questa notizia l'uomo si infuria scrive a Shari cose del tipo nessuno può farti questo non permetterò a quello schifoso di trattarti così lo fermerò cose del genere era davvero infuriato però Jerry ovviamente non conosceva Bruce ne aveva solo sentito parlare dai racconti di Shari e la donna oltre ad avergli raccontato questo episodio violento gli aveva descritto Bruce come violento ed estremamente possessivo gli aveva anche detto che non poteva andarsene da lui altrimenti non sapeva che fine avrebbe fatto e infine dopo avergli spiegato tutto ciò e dopo avergli raccontato l'episodio della perdita del bambino dice a Jerry che Bruce faceva parte della mafia anzi gli dice addirittura che era un pezzo grosso della mafia del Michigan e che comunque aveva anche delle conoscenze molto importanti e pericolose in quell'ambito era pericoloso e violento per questo è impaurita non può fare nulla si sente prigioniera o meglio rivela che l'unico motivo per cui non è sempre con Jerry ma sta a casa sua Flint è perché Bruce spesso la tiene letteralmente prigioniera non la fa uscire di casa Jerry leggendo tutto ciò si infuria ancora di più non può credere che la sua amata stia subendo tutto questo e non possa fare niente per salvarsi non lo può permettere se ricordate Jerry aveva un passato nella polizia quindi venire a conoscenza del fatto che un criminale del genere fosse libero e stesse facendo del male ad una persona a lui cara lo fa veramente imbestelire l'uomo decide subito di aiutarla in ogni modo possibile i due nonostante la situazione delicata lasciano trascorrere del tempo qualche settimana periodo in cui continuano a vedersi non è chiaro se solo una volta o più di una fatto sta che si vedono e fanno le loro cose dopodiché un giorno Shari manda una nuova mail a Jerry per condividere con lui una bellissima notizia gli dice che è di nuovo incinta di nuovo da lui ovviamente ma questa volta di due gemelli e leggendo questa cosa l'uomo rimane sia stupito che felicissimo perché come vi ho detto prima voleva una famiglia con Shari in quel momento gli sembra un po' strano che così poco tempo dopo un aborto causato da delle violenze lei fosse di nuovo incinta cioè si fa due domande più che altro sulle tempistiche ma alla fine non ci pensa troppo è felicissimo sicuramente però voi avete già capito e se non avete capito ve lo dico io Shari non era davvero incinta era un'altra bugia ma Jerry in quel momento non lo sa e poverino è tutto felice che si fa i castelli mentali e pensa al suo futuro con lei e i loro figli ma poi il 5 novembre del 1999 Jerry riceve una strana mail nell'oggetto ci sono due parole tanto semplici quanto spaventose per lui da Bruce nella mail Bruce è veramente incazzato e scrive queste parole cito Shari sta ingrassando con quei due bastardi dentro di lei ha deciso che non le piace questo eccesso di peso quindi andrà ad abortire leggendo il contenuto della mail Jerry rimane scioccato va un po' nel panico e ovviamente si infuria tantissimo comincia a chiamare Shari senza ottenere risposta le scrive mail messaggi ma nulla chiama anche diversi ospedali della zona di Flint dove viveva Shari ma nessuno di questi sa dargli informazioni il giorno seguente riceve un messaggio da un numero sconosciuto sono Shari vado via per qualche giorno ti contatterò la prossima settimana poi un'altra mail da Bruce beh Jerry lei mi ha detto di farti sapere che tornerà presto a casa penso che l'aborto sia andato bene sembrava sentirsi bene all'idea di non avere altri figli grazie per aver reso migliore la relazione con mia moglie ok Jerry va in panico ma poi in che senso grazie per aver reso la situazione migliore con mia moglie cioè non erano ex Jerry sapeva così ma vabbè questo è il meno la cosa assurda per Jerry in quel momento è che a quanto pare Shari era davvero stata ad abortire ma perché era stata obbligata aveva cambiato idea sul fatto di avere figli con Jerry tutto ciò per lui non ha senso ha paura che stia succedendo qualcosa di grave alla sua amata e non riesce a pensare ad altro ecco pensate quanto si annoiava Shari per inventarsi tutto questo ovviamente Bruce non aveva scritto nulla Jerry era stata lei si era inventata tutto le gravidanze il fatto che Bruce facesse parte della mafia gli aborti gli abusi tutto Bruce non aveva la minima idea di chi fosse Jerry e non aveva sicuramente idea che sua moglie si stesse frequentando con qualcun altro lui se ne stava tranquillo a lavorare sulle macchine per la sua attività non sapeva nemmeno come funzionasse internet non gli interessava ma Shari lo ha messo in mezzo a tutta questa storia e ha raccontato un sacco di bugie comunque per peggiorare ancora di più la situazione Shari decide di aggiungere un'ultima bugia veramente direi disturbante scrive un'altra mail a Jerry in cui gli spiega che non era davvero andata ad abortire che Bruce stava mentendo nella mail precedente ciò che era davvero successo dice Shari è che era stata stuprata da un gruppo di amici mafiosi di Bruce con l'obiettivo di farle perdere i bambini ancora una volta tutte bugie bugie a cui Jerry purtroppo crede ma con questa mail esplode di rabbia cioè venire a sapere che queste cose terribili stavano succedendo a Shari gli fa scattare qualcosa ci ragiona un attimo e si rende conto che lei è in pericolo forse anche di vita e i suoi figli sono in pericolo deve salvarli perché Bruce per lui è pericolosissimo così l'uomo invia un messaggio a Shari in cui le dice che è partito e sta arrivando a Flint lei gli risponde e continua a dirgli cose del tipo oddio ho così paura se non funziona non so cosa può accadere mi ucciderà cose del genere anche Jerry le chiede quale fosse il modo più veloce per entrare nell'attività in cui lavorava Bruce e le chiede indicazioni insomma per come arrivare da lui e lei gli le fornisce poi i due continuano ad inviarsi messaggi sdolcinati voglio passare la mia vita con te ti amo sei tutto per me cos'è così ad un certo punto però sempre tramite messaggio o mail Shari chiede a Jerry puoi farlo davvero Jerry guida per oltre mille chilometri a questo punto era già tornato a vivere nel Missouri nel semi interrato di suo cugino quindi si fa da lì fino a Flint in Michigan con sé ha un fucile calibro 20 l'8 novembre del 99 Jerry si intrufola all'interno dell'attività di Bruce e nello stesso momento Bruce è al telefono con Shari che gli ha appena chiesto di passare a prendere della pizza prima di tornare a casa ricordate ecco pochi istanti dopo come sapete Jerry spara un colpo a Bruce togliendoli la vita poi se ne va senza lasciare alcuna traccia le indagini cominciano immediatamente e ovviamente Shari diventa la prima persona sospettata ma il suo alibi è intoccabile durante l'omicidio era in casa di suo marito a prendersi cura dei figli mentre lui era a lavoro e a dimostrarlo è proprio quella chiamata che aveva fatto per chiedergli di andare a prendere la pizza oltre a questo quando gli agenti sono andati a casa sua per informarla del fatto che suo marito era stato ucciso la sua reazione è stata appropriata citando le parole degli agenti quindi nulla in quel momento indicava una possibile connessione tra Shari e la morte di Bruce gli investigatori quindi si focalizzano su altre piste anzi su una pista in particolare e ci si focalizzano ma veramente davvero eh ci si focalizzano allora Bruce aveva un vecchio amico di nome John e gli investigatori volevano sostanzialmente collegare l'omicidio a lui perché a quanto pare Bruce gli doveva dei soldi e John un giorno si era incazzato talmente tanto perché non aveva ancora ricevuto indietro i suoi soldi che ha detto qualcosa del tipo se non mi ridai i soldi lo uccido qualcuno ha sentito queste parole quindi quando è venuta fuori la notizia della morte di Bruce questa persona anonima questo testimone che ha sentito le parole è andato alla polizia e ha testimoniato in effetti in quel momento con nessun indizio tra le mani e con una testimonianza del genere era logico pensare che il colpevole fosse John era l'unico nemico tra virgolette di Bruce così gli investigatori cominciano a portarlo in centrale per interrogarlo più e più volte cercando di estraporargli una confessione e immaginate di non centrare nulla con un caso di omicidio e venire comunque interrogati a ripetizione perché la polizia pensa siate stati voi ci sono casi in cui purtroppo vengono anche condannati degli innocenti proprio perché dagli interrogatori riescono ad estrapolare una confessione però vabbè sono casi veramente rarissimi in cui non basta solo una confessione ma tutta una serie di dinamiche anche al processo che non stiamo ad approfondire altrimenti non usciamo più fatto sta che ogni tanto capita che vengano incriminati e condannati degli innocenti per poi scoprire magari dopo anni e anni decenni a volte che il colpevole era qualcun altro assurdo non dovrebbe succedere mai tornando da noi scusate la piccola parentesi l'unico sospettato del momento quindi John durante gli interrogatori non chiede neanche un avvocato perché sa di essere innocente e sa di poterlo provare una mossa piuttosto azzardata ma questo fa capire quanto fosse sicuro di sé ad un certo punto l'uomo informa la polizia di tenere d'occhio Shari perché lui si frequentava con lei quindi la conosceva bene esatto anche John usciva con Shari ma prima che si sposasse con Bruce almeno quello aveva anche tentato di avvisare Bruce della sua pericolosità gli aveva detto di stare attento di starle alla larga perché quella donna gli avrebbe solo causato dei problemi ma Bruce ovviamente non l'aveva ascoltato e sappiamo tutti com'è andata a finire comunque John dice alla polizia tutto questo racconta un po' della presunta pericolosità di Shari non riesce a fornire una prova tangibile o cose simili ma gli investigatori decidono comunque di dargli retta anche perché continuando ad interrogarlo non stavano ottenendo assolutamente nulla stavano solo perdendo del tempo molto prezioso quindi pongono l'attenzione anche su di lei alcune persone del posto dichiarano agli agenti che soli due giorni dopo la morte di Bruce avevano visto Shari in un bar locale e dicono che in questo bar la donna si stava scatenando sembrava essere felice spensierata ballava come una matta comportamento strano per una persona che ha appena perso un marito ognuno però ovviamente reagisce in modi diversi alle tragedie ma quantomeno tutto ciò è sospetto considerando anche come si era comportata davanti agli agenti quando gli hanno detto che suo marito era morto ma questo è l'unico sospetto e non è abbastanza per accusare qualcuno quindi le indagini raggiungono presto una situazione di stallo intanto Shari rimane a vivere nella casa di Bruce con i suoi bambini e poco tempo dopo invita a vivere lì con lei e i figli un nuovo uomo con cui aveva cominciato a frequentarsi e in tutto ciò tenete a mente si scriveva ancora con Jerry ma non per molto perché alla fine la donna decide di gostarlo che significa non rispondergli più ignorarlo del tutto ed è stato questo il suo errore più grande Jerry non era stupido era solo innamorato ma dato che Shari non gli rispondeva più e aveva di conseguenza un po' più di tempo per stare da solo a pensare in maniera razionale comincia a realizzare tutto il suo amore si trasforma presto in rabbia e senza il filtro accecante di un sentimento così potente come l'amore la sua mente comincia a capire Shari gli aveva mentito su tutto lui era stato manipolato manipolato talmente tanto da arrivare ad uccidere era praticamente stato usato come un'arma per togliere la vita di Bruce e tutto a causa del gioco malato di Shari realizzare una cosa del genere deve essere spiazzante ovviamente ciò non toglie che Jerry ha comunque ucciso una persona quindi la manipolazione non è una giustificazione se non si fosse tolto la vita probabilmente sarebbe stato arrestato e condannato se mai l'avessero beccato tuttavia il peso di ammettere a se stesso di aver ucciso qualcuno sotto manipolazione per lui è troppo grande così come sapete decide di farla finita ma non prima di aver raccolto tutte le prove della colpevolezza di Shari prima del gesto estremo infatti Jerry aveva recuperato tutte le chat e le mail con la donna e le aveva stampate si parla di migliaia di messaggi aveva stampato ogni singola parola delle loro conversazioni ma anche ogni foto quelle del pancione dei finti test di gravidanza delle finte ecografie delle finte ferite e sì anche le foto hot stampato tutto e messo tutto all'interno della valigia nera sotto il suo letto oltre a tutte queste prove come vi dicevo all'inizio Jerry aveva anche scritto delle lettere d'addio ed è in queste lettere che confessa di aver ucciso Bruce ma lo fa descrivendo ogni minimo dettaglio come è entrato nell'ufficio dello sfasciacorrozzo di Bruce quali attrezzi ha usato come faceva a sapere che Bruce si trovasse lì e infine come l'ha ucciso nelle lettere confessa anche che le bugie di Shari l'avevano colpito davvero nel profondo ne era rimasto traumatizzato direi in una di queste lettere indirizzata a sua madre Jerry le chiede perdono le scrive di volerle bene e spiega di aver ucciso quell'uomo sconosciuto solo perché pensava che Shari fosse incinta dei suoi bambini anzi pensava che ogni parola della donna fosse vera quindi sul serio pensava che uccidendo Bruce avrebbe salvato la vita a Shari e ai suoi figli ma anche ai figli che avrebbe avuto con lei che ancora non erano nati ma no ragazzi cioè è di una tristezza assurda sta storia sempre nelle lettere ma anche nelle prove che aveva lasciato nella valigetta Jerry afferma che Shari era coinvolta anzi era la causa di questo omicidio aveva messo in piedi un piano elaboratissimo per far fuori suo marito e lui ne aveva tutte le prove tutte in ordine e conservate minuziosamente avrà quel che si merita queste sono alcune delle parole di Jerry estrapolate dalle lettere d'addio il ritrovamento della valigetta con tutto quanto finalmente dà una svolta alle indagini Shari viene interrogata ma non confessa nulla anzi dice non posso credere che pensiate che io c'entri qualcosa rimane molto sulla difensiva e non dà assolutamente nessuna informazione o confessione agli agenti anche una volta capito che avevano un sacco di prove contro di lei Shari non mostra alcun rimorso prova a negare ma non serve a nulla la polizia ha già tutto ciò che le serve e anche senza una confessione riesce finalmente ad arrestarla il caso in Michigan fa subito uno scalpore immenso le persone sono sotto shock ma non tanto per l'omicidio in sé cioè oddio sicuramente anche per quello ma soprattutto perché è la prima volta che accade qualcosa del genere su internet vi ricordo che era il 2000 e le persone non pensavano che potessero succedere cose del genere sul web era surreale come era decisamente surreale pensare che tutte le chat potessero essere salvate e usate come prova in un processo era una cosa nuova tutto nuovo comunque il processo di Shari comincia e lei nega qualsiasi tipo di coinvolgimento fa anzi la parte della vittima perché per tutto il processo continua ad affermare di aver provato più e più volte ad allontanare Jerry ma che lui continuava a starle addosso dice che lui non le interessava davvero così aveva cominciato a dirgli tutte quelle bugie pesanti e disturbanti solo per allontanarlo ma lui era ossessionato da lei non riusciva a stare senza di lei le stava addosso e così via Shari rimane ferma su questa versione nonostante la montagna di prove contro di lei insiste con la giuria dicendo di essere anche lei una vittima affermando di aver provato ad allontanare Jerry in ogni modo tuttavia la sua versione non convince nessuno anche perché gli investigatori erano già riusciti a provare che invece Shari aveva sicuramente aiutato Jerry a pianificare tutto l'omicidio avevano trovato dei tabulati telefonici che dimostravano che dopo il delitto Jerry aveva usato il telefono di Bruce per chiamare Shari quella chiamata era come una sorta di segnale su cui i due si erano già messi d'accordo si erano messi d'accordo prima Jerry avrebbe fatto squillare il telefono di Shari per una sola volta usando il telefono di Bruce e poi avrebbe chiuso la chiamata un segnale per confermare alla donna che l'omicidio era avvenuto nonostante questa ulteriore prova Shari al processo continua a mentire e a professarsi innocente immaginate è talmente brava a mentire che probabilmente in quel momento crede anche lei alle sue stesse bugie continua quindi a difendersi dalle accuse dicendo che Jerry in realtà voleva i soldi di Bruce e aggiunge anche che il fatto di parlare con gli sconosciuti online all'inizio per lei era solo un gioco ma poi si è un po' lasciata trasportare ma quello che davvero era ossessionato da questo gioco era Jerry lei si stava solo divertendo tuttavia uno dei punti salienti delle prove lasciate da Jerry nella valigetta è il fatto che lui avesse più volte cercato di salvare Shari da quella situazione ma lei continuava ad insistere nel dire che nessun piano avrebbe funzionato perché Bruce faceva parte della mafia sempre a processo l'accusa ad un certo punto legge alcuni messaggi della chat tra i due messaggi in cui Jerry aveva provato a convincerla ad andare a vivere da lui in Missouri dicendole che avrebbe protetto sia lei che i suoi figli ma la risposta di Shari fu e cito non voglio starmene a Kansas City e diventare una povera stronza sapendo che lui è ancora lì fuori che respira ecco queste parole lasciano poco spazio all'immaginazione ovviamente la donna ha giocato un ruolo importante in questa triste vicenda che si è conclusa con l'omicidio di Bruce ma perché l'ha fatto? qual era il suo movente? ecco a quanto pare stando a quanto dichiarato da Shari subito dopo il matrimonio con Bruce aveva cominciato a spendere molti dei suoi soldi dei soldi di Bruce aveva sostanzialmente cominciato ad uscire e fare shopping fino a raggiungere il limite massimo di spesa delle sue carte di credito di tutte le carte di credito di Bruce e questo secondo l'accusa sarebbe potuto essere un movente tuttavia non è facile individuare una singola ragione che avrebbe spinto Shari a manipolare Jerry al punto di uccidere alcuni pensano le piacesse fin troppo avere il controllo sugli uomini altri che volesse semplicemente vivere così ricevendo attenzioni da chiunque e spendendo i soldi di altre persone secondo me è un po' un mix di tutto ciò ma vabbè qualsiasi sia il movente il 29 gennaio del 2001 Shari alla fine viene dichiarata colpevole di omicidio di secondo grado e concorso in omicidio e da 54 a 81 anni di carcere per l'omicidio in sé ma cosa davvero assurda il 16 luglio del 2009 dopo 8 anni dalla sua incarcerazione un giudice ha ordinato il suo rilascio immediato dalla prigione in attesa di un nuovo processo di un nuovo appello e questo perché la corte stava decidendo se le lettere da Dio di Jerry fossero valide come prova di colpevolezza di Shari cioè stavano cercando di capire se fosse stato lecito utilizzarle come prova nel primo processo e non sono riuscito a trovare il motivo di questo dubbio improvviso dopo 8 anni fatto sta che l'hanno avuto e per questo il 29 luglio del 2009 Shari viene rilasciata su una cauzione di 100.000 dollari in attesa di un aggiornamento del suo processo quindi ragazzi era libera era fuori di prigione poteva continuare tranquillamente con la sua vita lo trovo davvero assurdo ma a quanto pare in questi casi funziona così vabbè in questa sua parentesi di libertà che durerà per un bel po' Shari riprende il contatto con i suoi figli comincia a passare molto tempo con loro e ci stabilisce un forte legame per la prima volta aggiungerei poi però l'11 febbraio del 2014 quindi dopo 5 anni di libertà la corte conferma le condanne originali e ordina nuovamente che Shari torni in prigione ha senso? no però a quanto pare è andata così 5 anni per constatare che le lettere da Dio di Jerry fossero prove valide ma questa storia incasinata ragazzi non finisce qui ci sono ancora delle cose che devo dirvi veramente assurde allora a quanto pare il fatto di aver legato così tanto con i figli ha fatto smuovere qualcosa in Shari infatti secondo quanto dichiarato da lei stessa il giorno in cui è tornata in prigione è stata sua figlia ad accompagnarla lì e prima di salutarla ha avuto una sorta di rivelazione ha realizzato che era giunto il momento di smettere di mentire mentre la guardava ha pensato a quanto fosse fortunata ad aver avuto anche solo la possibilità di rivedere i suoi figli figuriamoci legarci così tanto allo stesso tempo però ha pensato che invece le famiglie di Jerry e Bruce non avrebbero mai più avuto la possibilità di rivederli questo pensiero ha detta sua e le ha fatto scattare qualcosa così nel 2016 Shari decide di scrivere una lettera al giudice del suo processo lettera in cui ammette per la primissima volta di aver organizzato l'omicidio di suo marito Bruce di fatto confermando la sua colpevolezza confessa tutto quanto sentite alcune parole di questa lettera sapevo che l'omicidio stava per accadere e ho permesso che accadesse ho permesso che un uomo uccidesse un altro uomo a causa delle mie bugie e della mia manipolazione scrivendo queste parole in sostanza ha accettato di restare in prigione per il resto della sua vita con questa confessione infatti non potrà mai più fare appello e di conseguenza la sua condanna rimarrà per sempre invariata Shari quindi in un certo senso ha capito che ciò che ha fatto è sbagliato ha capito che si merita quella condanna tuttavia rimane ancora il dubbio sommovente perché? perché cavolo ha fatto tutto questo? a tal proposito Shari disse queste parole era come un videogioco e ogni uomo e ogni relazione per me era come un nuovo livello e ogni livello era più difficile stavo vedendo quanto potevo farla franca quanto potevo far credere a qualcuno al momento Shari ha 52 anni e si trova in carcere da dove probabilmente non uscirà mai più e questo era il contorto caso del primo omicidio di internet tutto davvero allucinante dall'inizio alla fine ma c'è ancora una cosa che voglio dirvi una cosa molto strana allora sentite nel novembre del 2007 quando ancora Shari era in carcere per la prima volta e ancora non era uscita e rientrata un programma tv chiamato Snapped ha realizzato un episodio sulla vicenda di Bruce Jerry e Shari o meglio l'ho mandato in onda in quel periodo ecco a quanto pare un signore di nome Michael De Neuer allora 56enne ha visto questo episodio e si è innamorato di Shari pensava che lei fosse innocente anche perché ancora non aveva ammesso la sua colpevolezza diciamo voleva salvarla così ha deciso di scriverle una lettera alla quale lei ha risposto poco dopo l'uomo è andato a trovarla in prigione e dopo una breve chiacchierata il giorno stesso le ha chiesto di sposarlo e si sono sposati Shari ha accettato non ci sono molte altre informazioni riguardo questa relazione ma sembra che alla fine abbiano divorziato come vi ho detto l'ennesima cosa decisamente strana di questa storia questo era davvero tutto in realtà ho anche cercato di sintetizzare un po' altrimenti questo video sarebbe durato almeno due ore una vicenda ragazzi davvero contorta e complicata e secondo me ancora attualissima ci insegna a non fidarci troppo facilmente di chi conosciamo online perché se venerare queste cose possono succedere sono successe pensare che sia accaduto tutto nel 2000 nel 99 nel 2000 poi agli albori di internet fa davvero riflettere cioè da subito qualcuno ha usato una nuova tecnologia per fare del male il male è ovunque ragazzi davvero e più racconto queste storie più me ne rendo conto state attenti mi raccomando adesso comunque sono curioso di sapere i vostri pensieri riguardo questa storia quindi commentate qui sotto fatemi sapere tutto quanto vi chiedo davvero scusa per il ritardo nella pubblicazione di questo video non so quando uscirà ma sicuramente il ritardo rispetto a quando sarebbe dovuto uscire come avete visto questa storia era davvero incasinata piena di dettagli colpi di scena misteri un casino quindi ci ho messo davvero tanto a ricostruire i fatti in maniera comprensibile accurata e spero interessante per sintetizzare un uomo ha perso la vita a causa di un altro uomo che era stato manipolato da una donna che stava giocando un gioco ammalato e che alla fine si è tolto la vita tristissimo cioè ragazzi una storia tristissima questa vicenda mi ha veramente colpito molto e finirà sicuramente nella playlist delle storie che mi hanno colpito più nel profondo comunque ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di una cosa veramente agghiacciante accaduta proprio durante le feste natalizie spero quindi che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì o a questo venerdì con un altro file ciao ciao